Poi il gustoso retroscena delle mutande è andata così, a Milano ci sono le sfilate, il sindaco indossa le ciabatte di Dolce Gabbana, Maurizio Lointi, allora socio di Valentino non ci sta e gli dice caro Gabriele stasera sfili anche per noi. Il sindaco di Milano un po' imbarazzato accetta e dal dietro le quinte gli fanno scegliere un costume da bagno, lui indossa il più bello, però non è un costume ma bellissime mutande in cashmere, il suo ufficio stampa prega di cancellare le immagini ma quelle immagini intanto hanno già fatto il giro del mondo, un libro, 300 pagine di tutto di lui.